Ciao a tutti, faccio un brevissimo video per dare un paio di informazioni di servizio che però sono molto importanti in particolare per lanciarvi un messaggio che è quello di non perdere tempo a commentare in questi giorni perché non leggo nessun messaggio, non guardo, non leggo nessun messaggio, non rispondo a nessuno il motivo è che non ce la faccio materialmente con il tempo perché visto che l'Italia in generale è tutta chiusa in casa una buona parte, la maggioranza diciamo è chiusa in casa e sono tutti su internet ovviamente e quindi il numero degli accessi, dei contatti ai miei vari social è raddoppiata in questo mese quindi siamo circa a 2 milioni di contatti al mese sui vari social e più di 1000 messaggi al giorno quindi per me è impossibile leggere i messaggi o rispondere alle persone, nei giorni scorsi ci ho provato, rispondere a qualcuno ma è impossibile e poi risponderei senza poi leggere le altre risposte, senza seguire il thread eccetera per cui non voglio che vi risentiate appunto del fatto che io non rispondo a nessuno, non guardo i commenti eccetera perché non è possibile, o faccio contenuti in questo momento oppure rispondo ai messaggi e non riesco a fare entrambe le cose perché poi cosa sarebbe giusto che rispondessi a una persona, a due persone, a dieci persone tutte le altre 900, non rispondo non è giusto, a questo punto scelgo volontariamente di non rispondere a nessuno ci ho provato a farlo, a rispondere a qualcuno nei giorni scorsi ma è impossibile poi parte al solito thread di controrisposte e non si può seguire come vi dicevo e quindi non perdete tempo a scrivere messaggi sotto i video di youtube non perdete tempo a scrivermi su facebook, su twitter, su instagram, da nessuna parte perché è veramente per me impossibile interagire con voi in questo periodo e mi dispiace però purtroppo le cose vanno così e se guardate tutti i canali che hanno numeri molto importanti diciamo che nella maggior parte dei casi non rispondono mai nessuno ma non è una questione di cattiveria o di non curanza delle persone che seguono il canale ma perché appunto proprio non è possibile farlo o si fanno contenuti o si risponde ai messaggi e se prendessi qualcuno che risponde per me non sarei io e quindi che risposta, che valore avrebbe questa risposta? nulla e quindi di fatto purtroppo le circostanze non mi permettono di rispondere a nessuno e quindi non perdete tempo a commentare, a scrivere oppure scrivete, commentate se volete ma per avere una discussione tra di voi interna ma con me purtroppo in questo periodo è molto complicato interagire vi ricordo che c'è il gruppo Telegram e se il link che c'è qua sotto in descrizione non funziona per iscrivervi a Telegram cercate su Telegram a smettere di lavorare e iscrivetevi al gruppo e lì è una zona, un posto dove si fanno, si fa conversazione diciamo e forse ecco lì può essere il posto più corretto, più giusto per riuscire magari a parlare di alcune tematiche e arrivare a fondo di questioni che invece sono molto complesse anche da discutere sui commenti, sotto i video eccetera va così in questo periodo, avete visto ho voluto dedicare moltissimi video ho raddoppiato gli appuntamenti con le pillole di libertà che di solito ascono dei venerdì e basta perché ho voluto parlare molto della questione appunto virus e della situazione in cui ci troviamo però tutto è pronto per ripartire anche sul canale per quanto riguarda i temi principali smettere di lavorare, il lavoro, ho tantissimi video già registrati, pronti per essere pubblicati e non hanno molto senso in questo periodo ecco però ripartiremo quando la situazione tornerà ad essere un po' normale completamente normale ci vorrà moltissimo tempo per quanto mi riguarda, per quello che penso io ma quando la situazione tornerà un po' diciamo ad essere similare a quanto era in precedenza questa catastrofe diciamo che poi torneranno anche i video che riguardano la tematica principale del canale questo è quanto, non perdete tempo a scrivere commenti, intanto non ho tempo di leggerli oppure scriveteli ma con la chiara idea in testa che è qualcosa che fate per commentare e parlare tra di voi non certamente con me perché non ho il tempo